Siamo sempre allo stand dell'esercito italiano con il tenente Ventura che ci illustra l'ultima moto esposta nello stand dell'esercito. Una Kajiva V12, parliamo di una motocicletta da enduro, attualmente in dotazione ai reparti della Forza Armata, viene impiegata per diverse tipologie di scopo, non oltre le scorte di viabilità o scorte tecniche nel caso in cui si fanno attività di trasporti, convogli militari. Questa versione in particolar modo spicca per la presenza dell'avvisatore ottico telescopico che appunto segnala la presenza ai vari utenti della strada, della presenza di questi veicoli militari e dell'apparato radio per la comunicazione. Stiamo parlando di una motocicletta di 350 cm3 di cilindrata, un monocilindrico che è in servizio fin dal 1990.